Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha incontrato i professionisti Isola Architetti di Torino che hanno presentato il progetto definitivo per la nuova piazza d'armi della vecchia caserma Rossani che diventerà una piazza d'arti, un giardino che collega il parco con l'area sud del quartiere. Il giardino, come un'arena per installazioni artistiche, spettacoli e manifestazioni pubbliche, costituirà un'estensione all'aperto dell'Accademia delle Belle Arti che sarà ospitate in tre edifici dell'ex caserma. Entro la fine dell'anno contiamo di poter pubblicare la gara per la realizzazione dei lavori a Sicura De Caro ricordando che la struttura, prima della riqualificazione, è rimasta chiusa per 30 anni ma presto quello spazio sarà dedicato all'arte, al tempo libero e alla comunità che per la prima volta si riapproprierà per intero della nuova caserma Rossani. L'intervento ha un importo complessivo di 22 milioni di euro di cui 18 già finanziati dal patto della città metropolitana. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di nuovi ambienti per la didattica e a servizio delle nuove funzioni su due livelli in tre fabbricati per una superficie totale di oltre 9 mila metri quadrati. Ci sarà un'aulamagna dedicata alla didattica teatrale con 300 posti per il pubblico, il foyer, il palco con camerini, oltre ad aule didattiche e multimediali, laboratori di scenotecnica, incisione, grafica, decorazione e faleniameria, anatomia, scultura e pittura. Tutti gli interventi sulle strutture esistenti, sottoposti a vincolo, saranno eseguiti con materiali e tecniche compatibili con quelle originali e con impianti a risparmio energetico.